Ripartire da Eziolino Capoano, o almeno provarci, è il piano del Taranto in vista della stagione 2023-2024, messa a referto un'annata sportiva vissuta di rincorsa e nata in salita, conclusa con la salvezza conquistata in anticipo e con il sogno play-off cullato fino all'ultimo turno di campionato, la società Rosso-Blu punta proprio a rimettere al centro del proprio progetto tecnico, l'allenatore di Pesco Pagano. Non a caso a Capoano è stato proposto un contratto triennale con un ruolo quasi da manager nel solco del calcio inglese, una scelta di continuità diversa da quella che invece dovrebbe riguardare Luca Evangelisti, per il DS è scattato in automatico il rinnovo del contratto per la salvezza, ma la sua strada e quella del club potrebbero comunque separarsi. Dopo la definizione del prosiego del rapporto con Capoano, sul quale resta però insistente la corte dell'Avellino, sarà tempo di andare a individuare i puntelli dai quali ripartire sul campo. In copertina c'è il portiere Gianmarco Vannucchi, arrivato da svincolato tra le fila dei Rosso-Blu nello scorso settembre, il classe 97 ha pienamente dimostrato il suo valore, tenendo inviolata la porta per ben 20 delle 33 gare giocate e risultando un tassello fondamentale nei 34 punti ottenuti in casa dal Taranto, un dato che nel girone C lo ha collocato solo alle spalle di Andrea Fulignati del Catanzaro, a quota 24. Si lavora al suo rinnovo del contratto, così come è già successo per il difensore Antonini Lui, potrebbe far parte del processo di ripartenza, insieme a Bifulco, Antonio Romano, Manetta, Ferrara, Formiconi e Mastro Monaco. Discorso a parte per l'attaccante Cristian Tommasini, autore di Otto Reti. Il suo cartellino è di proprietà del Pisa e al termine della stagione di Serie B ci sarà un dialogo con il club toscano sul tema. La priorità però resta la conferma di Capuano.